Buon pomeriggio, siamo qui per presentarvi il nostro gruppo che si chiama I Tirreno Folk. Le nostre ballerine sono Maria Carpino e Vittoria Gallo, la nostra musicista Rosi Raso e il nostro tamburellista Luca Bernardo e io Luca Guzzo, anche tamburellista. Il nostro gruppo è nato dalla passione per la musica, ci siamo incontrati per caso sul lungomare di Falerna e da lì diciamo che abbiamo preso l'iniziativa di formare un gruppo che tuttavia nonostante questo Covid ci ha un po' bloccato però stiamo continuando ad andare avanti e quindi anche spero in un vostro supporto di seguirci su tutte le piattaforme e insomma di assecondarci nelle serate calabresi e del folk. Portiamo avanti questa tradizione appunto perché allora io la penso in modo che mi piace spronare tutto il territorio magari se vado in Puglia o a Napoli mi piace vedere le tradizioni che ci sono nel luogo e da questo anche noi diciamo che piace che chi viene in Calabria insomma sappia anche le nostre tradizioni e da qui è nato questo nostro progetto che speriamo che ci fa andare avanti. Vi ringrazio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.